La bellezza è nulla senza l'accoglienza. Sono Angelo Vaccarezza, presidente della provincia di Savona. Questa chiave è il simbolo della nostra ospitalità. La nostra filosofia? Prenderci cura di voi. Il nostro obiettivo? Che ripartiate con il desiderio di ritornare al più presto. Rispondete alle poche domande che seguono cliccando sul link qui sotto. Il vostro aiuto sarà prezioso per crescere e migliorarci. Provincia di Savona, c'è ancora molto da vedere. Vi aspettiamo. La bellezza è nulla senza l'accoglienza. La bellezza è nulla senza l'accoglienza. La bellezza è nulla senza l'accoglienza. Sono Angelo Vaccarezza, presidente della provincia di Savona. Questa chiave è il simbolo della nostra ospitalità. La nostra filosofia? Prenderci cura di voi. Il nostro obiettivo? Che ripartiate con il desiderio di ritornare al più presto. Rispondete alle poche domande che seguono cliccando sul link qui sotto. Il vostro aiuto sarà prezioso per crescere e migliorarci. Provincia di Savona, c'è ancora molto da vedere. Vi aspettiamo.